Il Presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha preso parte all'inaugurazione della struttura ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate. Ecco i dettagli nel servizio. Dopo tre anni di lavori è stato inaugurato nella mattinata di lunedì il nuovo ospedale Guido Salvini di Garbagnate milanese. Presenti oltre a sindaci del territorio e consiglieri regionali, l'assessore all'economia Massimo Garavaglia e il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Quali sono i punti cardine del nuovo welfare a Regione Lombardia? È una riforma molto ambiziosa che vuole confermare il principio della libera scelta, che è una caratteristica del nostro sistema. I cittadini lombardi possono scegliere liberamente dove andare a farsi curare, nel piccolo ospedale pubblico o nel grande ospedale privato, senza che questo per loro aumenti i costi. Il secondo principio è adeguare il sistema sociosanitario all'evoluzione della società lombarda. Fra vent'anni avremo tante persone anziane in più, tanti malati cronici, che avranno bisogno dell'ospedale, ma soprattutto di essere assistiti fuori dall'ospedale. Quindi il nuovo ospedale, che si chiamerà Azienda Sociosanitaria del Territorio, deve occuparsi anche del territorio. Questa integrazione tra l'eccellenza ospedaliera e il territorio è la caratteristica nuova della riforma che abbiamo fatto. Il nuovo complesso sorge vicino alla vecchia Salvini. Si snoda lungo una superficie lorda di quasi 98.000 m2, disposti su sei livelli, di cui tre interrati e può ospitare fino a 500 pazienti. Qui abbiamo la metà di tutte le RSA che ci sono in Italia, per esempio. Proprio questo dimostra l'attenzione che abbiamo nei confronti di chi ha bisogno di aiuto. Le nuove ospedali come questo sono fondamentali e noi vogliamo continuare a investire in questa direzione. Proprio l'aiuto nei confronti di chi ha bisogno è uno dei pilastri dell'azione di governo della Regione. Nei giorni scorsi abbiamo approvato il reddito di autonomia che va in questa direzione. Per esempio cancellare i ticket per gli anziani che hanno bisogno di cure, che hanno bisogno di fare spesso esami. Cancellare i ticket è una delle misure concrete che abbiamo adottato. Quindi a conferma dell'impegno della Regione nel aiutare i propri cittadini. Grazie 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 Grazie